Un presidente preso di mira lancia un commosso appello al Parlamento europeo sotto i bombardamenti da Kiev. L'ucraino Volodymyr Zelensky ha parlato in collegamento video con gli eurodeputati a Bruxelles, ribadendo il suo appello all'adesione dell'Ucraina all'Unione europea. Abbiamo dimostrato la nostra forza, abbiamo dimostrato che siamo esattamente come voi, quindi ora dimostrateci che siete con noi. Dimostrateci che siamo europei, allora la vita vincerà sulla morte e la luce sulle tenebre. All'appello ha risposto la Presidente del Parlamento europeo. Accogliamo con favore, signor Presidente, la domanda dell'Ucraina per lo status di candidato. Siamo al vostro fianco nella vostra lotta per la sopravvivenza in questo momento buio della nostra storia. Gli eurodeputati stanno votando per riconoscere lo status di paese candidato all'Ucraina come membro dell'Unione europea. Una risoluzione non vincolante, ma qualsiasi trattativa accelerata per l'adesione deve essere concordata dai paesi europei.